eccomi qua buongiorno ciao a tutti oggi il mio amplificatore tecniche non ne vuole sapere di accendersi morto questa funzionale non funziona perché l'ho staccato io ma l'ampli non funziona quindi io ho già preventivamente staccato tutto il marasma di cavi mi prendo l'amplificatore perfetto bella mazzata e vado a vedere cosa non funziona più eccomi qua smontata la copertura molto semplice quattro viti proprio andiamo a vedere direttamente il problema che sicuramente è uno di questi due uno o due semplicissimo cacciavite tac lo vado a togliere lo andiamo a controllare questo è andato questo è buono ma noi li andiamo a cambiare tutti e due ecco qua questa è una semplice pressione e due ora andiamo a testare eccoci qua lo colleghiamo alla corrente che ho già attaccato lì ok lo giro ok girato quindi abbiamo detto che abbiamo sostituito i due flusibili non tocchiamo più perché abbiamo la corrente andiamo a fare la prova 3 2 1 prendiamo bingo funziona 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 perfettamente quindi poco male erano i due flusibili così quindi diciamo Grazie.